Perché noi stiamo difendendo la nostra terra, perché noi stiamo difendendo la giustizia, loro stanno difendendo gli interessi forti, loro stanno difendendo la mafia. E allora ripeto, noi della Valciusa vi ringraziamo per la vostra resistenza, non potevamo non esserci, siamo con voi, alcuni di noi erano presenti mercoledì, ci saremo sempre come voi sarete sempre al nostro fianco. Ricordatevi, ricordiamoci, uniti vinceremo e la lotta ci farà vincere. Grazie. 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 questo non è vero questo non è vero sono diciamo che non dici diciamo che è la vista la cultura lucia Anche il volto, carico al cielo, anche il terreno, con un terreno, con un terreno. Anche il volto, carico al cielo, con un terreno, con un terreno, con un terreno, con un terreno, con un terreno. Anche il volto, carico al cielo, con un terreno, con un terreno, con un terreno, su Comunico, su Comunico. Che paura non verrà, sulle barricate sventolà la bandiera. Grazie per la visione!